ci concentreremo in particolare sulla storia di Cybersyn una storia che come stavamo riflettendo prima di cominciare è una storia effettivamente che si sa e non si sa nel senso è una storia o il progetto Cybersyn quando parli del progetto Cybersyn tutti più o meno hanno una vaga idea insomma no tutti nel senso della bolla di sinistra mettiamola così però poi effettivamente è una storia un po' bistrattata Federico buonasera ciao Federico se hai particolari problemi con lo sfondo possiamo provare a cambiarlo si mette uno sfondo statico così da non darti fastidio nel caso ci sentite? se ti dà fastidio se dà fastidio a qualcuno lo sfondo statico la voce dovrebbe sentirsi ok ok se dà fastidio a qualcuno lo sfondo cioè lo sfondo che si muove dietro così con questi glitch eccetera eccetera potete dircelo mettiamo lo sfondo statico appunto alcuni alcuni danno fastidio questo tipo che ci stiamo no penso non lo so potrebbe dare sui negli anche questo comunque comunque buonasera Zenzero e appunto stavo dicendo è una storia che effettivamente è sempre stata un po' bistrattata no nel senso si conosciamo la storia di Cybersin eccetera eccetera si conosce però poche sono effettivamente state le indagini fatte su Cybersin apparte appunto un libro importantissimo che consigliamo a chi poi è interessato alla storia ad approfondirla nel modo più più cioè nel modo migliore possibile ovvero quella di Eden Medina il libro di Eden Medina che è una ricercatrice cilena al mit di Boston che ha scritto un libro che fra l'altro per chi sta sul gruppo Telegram hanno anche mandato quindi nel caso voleste leggerlo c'è il pdf lì oppure però mandiamo noi dopo che appunto si chiama Cybernetic Revolution Cybersin magari lo mettiamo su Discord si mettiamo su Discord e su Telegram insomma e appunto come dicevamo una storia che a parte questo studio molto questo libro molto particolare di questa ricercatrice cilena non è mai stata una storia molto raccontata stasera ci daremo a raccontarla per chi già la conoscesse ma anche per chi non la conoscesse cioè per chi non la conosce sì la musica la teniamo quindi non so come si sente si sente bene speriamo che non dia fastidio dateci un feedback nel caso cioè volevamo mettere un po' di musichetta di sottofondo come insomma come ambient come ambientateci per creare un po' di atmosfere comunque comunque io penso che prima di partire su cosa sia il progetto in sé cioè bisogna bisognerebbe un po' parlare di quello che era il contesto in cui questa storia questo progetto quest'utopia si inserisce che è un contesto molto particolare quello quello degli anni settanta in Cile con appunto l'elezione democratica di Salvador Allende e lascia la parola per fare questa introduzione storica cosa? no dico lascia a me la parola per fare questa introduzione storica ok si appunto come dicevi tu nel 1970 viene eletto il primo e ultimo purtroppo governo Allende eletto democraticamente dopo che appunto nei decenni precedenti c'era stata un'alternanza di governi sia fascisti che di destra moderata governi che comunque tra gli anni 50 e gli anni 60 avevano soprattutto negli anni 60 avevano insomma portato a liberalizzazioni forzate diciamo per dare un po' di sollievo all'economia cilena e quindi si era proceduto per liberalizzazioni di qualsiasi tipo liberalizzazioni fra cui ricordiamo una delle più importanti quella del rame che ha suscitato non poche polemiche nel paese al tempo insomma queste liberalizzazioni questi scontri interni all'interno del Cile del tempo portano nel 1970 adesso a un governo Salvatore Allende Salvatore Allende è il suo governo spiccatamente socialista che si proponeva effettivamente come alcuni paesi di quel tempo noti ricordiamo come il Cile e altri esempi simili come diciamo la terza via tra il comunismo sovietico e appunto il capitalismo americano sprenato americano ora dovrebbe esserci la musica terza via l'ho alzata un pochino quando ho letto il mio storio e il capitalismo americano i paesi come il Cile appunto si proponevano come la cosiddetta terza via al socialismo anche proponevano modelli non non comunisti al 100% ma appunto socialisti con delle sfumature diverse da quelle che erano riconducibili dal comunismo sovietico e appunto totalmente opposte a quello che era il capitalismo americano col governo Allende in pochi anni il governo Allende procede ad una nazionalizzazione massiccia esatto massiccia velocissima rapidissima fra l'altro del Cile infatti che poi come erano anche gli investimenti comunque nelle altre economie alla fine anche la liberalizzazione era massiccia negli altri stati però appunto lui che fa mette in piedi questo processo inverso ma sempre in modo massiccio nazionalizza tutto il Cile in meno di tre anni si ritrova quasi completamente nazionalizzato questo poi chiaramente poi dopo ne parleremo porterà anche a delle ripercussioni economiche abbastanza importanti poi approfondiremo i come e i perché anche di questa cosa magari nel finale o nel mezzo però appunto ecco questa nazionalizzazione avviene in un tempo brevissimo le industrie cilene le maggiori industrie cilene vengono nazionalizzate e controllate dallo Stato insomma quasi tutto finisce nella mano della nazione cilena e del governo appunto di Salvatore Allende all'interno ovviamente per gestire questa nazionalizzazione enorme come abbiamo detto prima gigantesca di proporzioni veramente indicibili si cercavano all'interno del governo Allende vari modi per gestirla dal momento in cui in Cile era uno scenario del tutto inedito e dal momento in cui appunto ci si trovava di fronte ad un come dire cioè sì a uno scenario inedito ecco e appunto si studiano vari modi diciamo per mettere su questa politica questo genere di politica tra le varie proposte per gestire la nazionalizzazione e la pianificazione dell'intero Cile di di allora spicca una proposta molto molto particolare avanguardistica per il tempo una proposta veramente molto molto straordinaria sotto qualsiasi punto di vista ovvero il progetto Cyber Scene di cui appunto parleremo questa sera il progetto Cyber Scene nasce principalmente diciamo dall'idea di Fernando Flores che era viene veniva definito tecnocrate diciamo no però era diciamo un ingegnere in realtà un ingegnere informatico però veniva appunto un giovane ingegnere informatico che veniva definito un tecnocrate che vabbè si occupava di tutte queste robe così perché era al tempo cioè questa roba vabbè appunto poi a lui fu affidato il compito cioè lui si impegnò affinché Cyber Scene il progetto Cyber Scene nascesse ti costruisse sì infatti Fernando Flores per sviluppare la sua idea appunto contatta quello che al tempo era uno dei più grandi ingegneri cibernetici del tempo che poi effettivamente ha segnato con i suoi studi e con con i suoi studi e con le suoi analisi proprio la progettualità sia appunto cibernetica la progettualità la teoria dei sistemi sì esatto ovvero del funzionamento cioè del funzionamento teso all'efficacia all'efficienza dei sistemi no appunto questo chi era abbiamo detto il nome era Stafford Beer Beer sì esatto Fernando Flores si chiama Stafford Beer che appunto era uno dei più grandi al tempo come abbiamo detto ora che ha segnato assegnato per sempre almeno fino ad oggi gli studi in questo campo e propone a Beer il progetto cybersyn ovvero o meglio non è che propone a Beer il progetto cybersyn gli dà questa idea di voler centralizzare nel modo migliore possibile più efficiente ovvero l'idea di Proliflores era quella di automatizzare il controllo e la produzione e la pianificazione cioè l'idea di Flores era questa cioè noi vogliamo automatizzare i processi di produzione oltre che i processi di produzione anche i processi di pianificazione e di controllo vogliamo che sia tutto estremamente sotto controllo sì volevano praticamente centralizzare il controllo il controllo delle imprese esatto per analizzare e appunto migliorare sempre di più i sistemi sì in pratica c'è appunto e tra l'altro c'è non solo centralizzarle ma collegare in rete tutte le imprese tra loro la famosa rete telex poi dopo ci arriveranno quindi non solo con un sistema che si collegava direttamente cioè a questa centrale di comando che è appunto molto evocativa fantascientifica che sembrava appunto aliena rispetto al contesto e agli anni settanta in generale appunto non solo di collegarle all'impresa cioè al alla base centrale ma di collegarla e di collegarle anche tra loro quindi questa rete di comunicazioni che poi magari vediamo realizzarsi oggi oggi poi 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 arriviamo pure a questo vediamo oggi realizzarsi ma comunque al tempo era ancora nello stato embrionale e invece qui veniva costruita addirittura la struttura per far sì che questo sistema funzionasse oltre ad avere un'idea che comunque cioè era veramente utopica appunto all'epoca sì cioè probabilmente se il progetto Cyberstein fosse andato avanti oggi saremmo un'umanità più evoluta chi lo sa cioè nel senso che nella direzione in cui voleva andare Cyberstein perché appunto come dicevi tu sì nella direzione in cui voleva andare Cyberstein ma anche a livello c'è nel senso di molti dei cambiamenti che abbiamo vissuto in questi anni magari sarebbero stati accelerati certo anche a livello evolutivo tecnologico però c'è però c'è da dire che di fatto il modello Cyberstein poi comunque divenne appunto un modello da seguire è stato anche eseguito cioè possiamo dire non al 100% anche da un punto di vista ideologico o comunque di intenzioni cioè quello no però dal punto di vista tecnico è comunque un progetto che poi abbiamo visto realizzarsi nel tempo e che in un modo o nell'altro è stato diciamo uno un esempio per un po' per tutti poi vuoi coniugarlo in un modo vuoi coniugarlo in un altro però ha segnato comunque diciamo per grossa parte quello che poi abbiamo visto svilupparsi dopo negli anni sì e appunto stavamo dicendo cioè l'idea di Flores era questa qui hai detto tu ecco proprio per chiudere l'idea di Flores era questa e la propone appunto a Beer Beer non era effettivamente per quanto sia stato un grande teorico non era effettivamente quel tipo di persona che aversi definito un socialista un comunista queste robe quanzi era un tipo che abbastanza diciamo eccentrico aveva uno stile di vita molto sontuoso si dava al lusso sfrenato era un tizio insomma che se la se la godeva no se la spassava certo sì sì cioè non era non era un povero comunista un povero comunista non era un povero comunista de merda ok per farla breve da sta calmo siete e rimarrete sempre dei poveri comunisti per citare un un grande teorico puoi chiudere lì per favore si non fa niente che stai fumando però fa freddissimo ci affumichiamo comunque appunto bir ecco non era proprio come dicevamo il classico esempio di socialismo però appunto si presta all'idea di Flores si presta all'idea di Flores e si mette al lavoro per realizzarlo nasce diciamo che teorizza uno dei sistemi cioè birr teorizza uno dei sistemi proprio funzionali su cui sono basate praticamente le imprese di oggi che è appunto il il sistema vitale cioè l'approccio sistemico vitale appunto cioè nell'approccio sistemico vitale viene teorizzato questo sistema che è definito come un sistema che sopravvive rimane unito e integrale possiede i meccanismi e le opportunità per crescere apprendere e divenire sempre più efficace nel suo sistema ovviamente il sistema vitale oltre ad avere delle oltre a mettersi in relazione con se stesso all'interno è fondamentale che abbia delle interazioni all'esterno anche da qui poi nasce tutta la rete comunicativa e cioè di contatto tra tutte le tra tutta l'economia cilena quindi appunto che si alimentava con le reti telex che abbiamo detto prima che abbiamo citato per un attimo sì sì poi magari ci ritorniamo e appunto c'è la sua forza vitale fondamentalmente è avere appunto relazioni interazioni per sopravvivere e diventare sempre più efficace nel suo sistema di riferimento quindi immaginiamo la rete e le strutture le infrastrutture fisiche e sociali che abbiamo oggi a sostegno dell'impresa privata traslate allo allo stato al pubblico pensa quanto saremmo che società evolute che saremmo possiamo immaginarlo sì assolutamente dato che stasera comunque siamo in tema utopia cioè sì vabbè poi il bello di questa storia magari è capire quanto sia stata visionaria al tempo dal momento in cui quello che abbiamo oggi somiglia è basato sui presupposti di 6 versi io ci vedo così però vabbè no comunque questi sono quelli di prima a meno che non vedi che si alza ok no ma si è bloccato proprio a me ok cioè niente tutto a posto si è bloccato a me eh riaprilo sì stavi dicendo prego continua scusami no niente stavo dicendo cioè l'importante cioè poi il la riflessione interessante anche se poi si fa rispetto ad oggi cosa è cambiato cosa avrebbe cosa sarebbe potuto essere e com'è sì ok scusate un secondo ok comunque sì eh assolutamente però dato che appunto cioè ecco eh dicevi cosa sarebbe potuto essere e ed è cioè ed è triste effettivamente pensare che appunto poi cyber scene è rimasta comunque un'utopia per quanto si sia impegnati il governo agli end si impegnò affinché eh eh questa utopia appunto potesse realizzarsi nonostante questo comunque è rimasta un'utopia perché vabbè ci sono diversi fattori storico storici che poi hanno contribuito a questa cosa però appunto entrando diciamo nel cioè in cos'era cyber scene proprio no cioè cyber scene tu prima hai detto la teoria proprio c'hai fatto c'hai spiegato proprio no spiegato semplicemente su cosa quali erano le premesse dei cyber scene sì sì no no assolutamente cioè no tu e quali sono le comparazioni di oggi poi appunto c'è nel pratico si basò sulla rete come si chiama che hai detto prima telex telex sì nel pratico cioè nel concreto anche se comunque c'è il progetto fu appunto un prototipo che durò per tre anni e appunto cioè poi non andò mai in porto ufficialmente sì fa ridere questa te vabbè vabbè cioè vabbè e appunto cioè di base cioè come era costituito cyber scene ciao franci frog c'è uno spettacolo sì siamo noi lo spettacolo credo non lo so ciao franci frog e sta qua l'accendino appunto cyber scene ecco c'è nella c'è uno spettacolo bellissimo di teatro documentato sulla dittatura cilena ah ecco questo volevo dire anche era questo ok scusaci c'è uno spettacolo bellissimo di teatro documentario sulla dittatura cilena e sugli anni di Allende the year I was born di Lola Arias magari andrò a vedere mi interessano tantissimo mi sono sempre interessati un sacco i documentari sugli anni della dittatura cilena sì perché appunto vabbè a parte che mi è sempre piaciuta la storia in particolare del cile in sud america del sud america e del cile in particolare quindi sì non lo conoscevo però andrò a vedere magari e appunto cioè nella testa di beer cyber scene comunque doveva essere una cosa che cioè doveva essere il futuro letteralmente no doveva doveva tendere diciamo che per beer doveva tendere a l'autogestione in pratica questo sistema cioè doveva mantenersi da solo reggersi da solo migliorarsi adattarsi ed evolversi doveva essere letteralmente lui lo immaginava cioè come un sistema vitale proprio c'è Ed Medina che appunto che ha scritto un libro gigantesco come abbiamo detto anche all'inizio sul progetto cyber scene che riporta questo esempio nello spiegare come intendesse beer cyber scene il progetto cyber scene beer lo intendeva esattamente come un corpo umano nel senso un sistema che era in grado di controllare le cose in tempo reale e nel tempo reale dare un feedback per poi migliorarsi o adattarsi a quella situazione certo però oltre il corpo umano cioè perché appunto oltre il corpo umano quasi un cyborg appunto sì un prototipo di intelligenza artificiale attuale comunque possiamo metterla così cioè nel senso vabbè al tempo è vero che si puntava appunto all'automatizzazione però appunto il tutto era comunque gestito da esseri umani sì tutto era gestito da esseri umani e appunto però appunto ci sarebbero sicuramente arrivati anche all'automazione sì ma infatti c'erano tante come dicevi tu prima appunto riportavi la teoria di quello che era il sistema per il WSM cioè Vital System Model che è appunto il modello di Build e doveva come diceva come abbiamo detto doveva rispondere in tempo reale a tutto quello che erano gli adattamenti dell'economia della pianificazione della strategia e appunto del benessere dei cittadini cileni sì e appunto poi con lo scopo di raccogliere dati analizzarli e quindi utilizzarli sempre per migliorare ed evolvere sì poi è chiaro appunto c'è una peculiarità del progetto cioè che è il che vorrei dire è la ragione di essere su cui si fondano le imprese di oggi certo sì chiaramente sì chiaro sì e appunto però Beer ecco aveva questa visione che poi poi scenderemo nei dettagli su come era organizzata assolutamente futuristico cioè che doveva pensare al futuro doveva ricordare l'idea di futuro di fatto Beer sviluppa nella sua progettazione un vero e proprio studio che ricorda quello di Star Trek magari possiamo trasmettere delle immagini saranno note saranno abbastanza note queste foto si vedono aspetta ok saranno abbastanza note queste foto che mostriamo eccole qua eccole appunto Beer sviluppa questo studio dove vediamo diciamo dei pannelli dei pannelli degli schermi dove veniva trasmesso in tempo reale tutti i dati si è alzato il volume del botto oh cazzo scusate ok scusateci ho cambiato la scena e avevo il volume più alto ok scusateci aveva immaginato appunto questo studio che ricorda Star Trek in tutto e per tutto con gli schermi che trasmettevano in tempo reale tutti i dati riguardo alla nazione i dati statistici economici eccetera eccetera c'era questo pannello gigante vi erano poi delle graphic designer che vi lavoravano alle spalle comunque per gestire i dati e che appunto facevano costruivano dei grafici con la macchina vi era comunque agli inizi una collaborazione cioè non era totalmente automatizzato tra essere umano e macchina anche se il progetto come abbiamo già detto prima tendeva alla piena automazione letteralmente questo era un prototipo questa era diciamo ecco sì è un prototipo della stanza operativa che aveva queste sedie ogni sedia era dotata di un di due braccia ovviamente su una c'era ci erano dei tasti sui quali con i quali si poteva scorrere diciamo per i vari dei tablet esatto nei vari schermi eccetera eccetera si poteva scorrere con delle frecce eccetera con i quali potersi orientare sugli schermi e poi alla sinistra vabbè la cosa molto divertente di questa serie era il portabicchieri e il posacenere questo era perfetto per noi questa era un'idea di beer cioè proprio quella di volere è assolutamente un posacenere è un portabicchieri perché lui amava il whisky e amava fumare quindi doveva sta tutto lì cioè durante il tutto quindi molto interessante questa cosa cioè perfetta per lavorare sì ma poi guardale cioè poi a parte cioè ok questo però guardale cioè sono bellissime poi cioè a parte tutte le funzionalità è proprio esatto bellissima poi andiamo avanti magari c'erano altre foto no questo è proprio ecco questo è il pannello con il quale si comandava ecco la postazione si gestiva la postazione con tutte le freccette eccetera eccetera un po' ricordava un po' ricorda un joystick un po' insomma un tablet dipende insomma da come lo si vuol vedere poi appunto qui abbiamo invece e qua poi ecco qui parliamo anche qui poi da qui scendiamo anche nei dettagli di quello che è stato di quello che era l'idea di Cybersync qui abbiamo questo questi due pannelli cioè questi due schermi questo qui a sinistra in particolare era uno schermo che doveva essere poi non è mai stato messo in atto doveva essere uno schermo che controllava letteralmente il feedback da parte dei cileni cioè in che senso su questo schermo comparivano compariva cosa ne pensasse cosa ne pensava il cosa ne pensavano i cileni di certe politiche che erano state attuate in quel momento dallo Stato questo feedback come doveva arrivare non è mai stato messo in piedi poi cioè questo sistema doveva arrivare attraverso appunto la rete Telex che era collegata per tutto il paese e doveva essere diciamo trasmessa in qualche modo sulle tv di tutti i cileni i quali poi attraverso la televisione potevano dare un feedback che appunto che era mi piace non mi piace letteralmente cioè che poteva diciamo che significava benessere oppure una roba terribile cioè mi fa schifo sta roba che avete fatto vabbè sì appunto loro cercavano un feedback da appunto i cittadini e le cittadine che erano i i destinatari principali di tutti i servizi qui è appunto questo sulla estrema sinistra cioè ovviamente cosa facevano cioè chiedevano appunto un feedback rispetto appunto a quelli che erano i cittadini e le cittadine per cui loro erogavano tutti i servizi sì questo doveva essere chiaramente questa cosa non è mai andata cioè non è mai stata applicata al 100% poi era questo questo era ancora un prototipo di quello che doveva essere l'idea in particolare questo questo progetto in particolare perché poi appunto ricordi ecco ricordiamo CyberSyn era era formato poi da dei sottoprogetti che adesso magari andiamo a vedere questo qui del del feedback da parte dei cittadini si chiamava CyberFolks cioè appunto cittadini cyber cittadini cyber così letteralmente cioè cosa ne pensavano appunto per i cittadini del tutto questa cosa il film mi sa un po' di piattaforma rossosi vabbè però c'è in realtà se pensi quante aziende chiedono i feedback appunto dai consumatori diventa una cosa normale completamente sdoganata sì sì chiaro chiaro sì certo sì certo sì che c'è? niente no perché mi stavo giudendo la sigaretta no no sempre cioè a ricordare quanto questo progetto sia sia stato avanguardista sia stato avanguardista dal momento in cui c'è il mondo oggi funziona così dal dal punto di vista del vabbè sì chiaro cioè noi diamo dei continui feedback attraverso anche social network eccetera eccetera siamo sempre soggetti a dare un feedback in un modo o nell'altro che sia il like su facebook o che sia appunto i dati su amazon che in base ai tuoi gusti comunque tu stai dando un feedback ma perché si chiama Cybersyn mi sono perso se l'avete già detto allora si chiama Cybersyn no non l'abbiamo detto cioè l'origine del nome non l'abbiamo detto effettivamente Cybersyn perché significava letteralmente sinergia cibernetica cioè l'idea era proprio questa di creare appunto una sinergia dato che si doveva creare di base una sinergia tra umano e macchina venne fuori questo nome venne battezzato così cioè sinergia cibernetica Cybersyn poi tradotto cioè in questo modo che c'è se posso dire una cosa stupida cioè che non c'entra con questo con con no dicevo domani dato che devo fare un esame cioè domani metto a parlare di Cybersyn a questo punto eh sì ma perché comunque c'è per fare per fare proprio l'uscita fuori da tutto proprio cagare fuori letteralmente però in realtà appunto cioè nell'esame che tu devi fare domani c'è anche questo c'è l'abbiamo detto poco fa sì sì a voglia cioè quindi c'è birra c'è la teoria di birra anche nel tuo esame no per questo ti faccio questi collegamenti perché c'è mociolamente deviata dall'esame ma come ti ho detto prima in realtà cioè sta live di stasera ti serve pure per ripetere cioè secondo un po' un po' di storia un po' di teoria cioè economica queste robe qua appunto ecco questo come stavamo dicendo prima cyber folks era il progetto di feedback però cyber scene era formato anche da dei sottoprogetti ovvero cyber net cyber stride ceco e ops room cyber net questo componente appunto ampliava la rete fisica già esistente per creare appunto non solo una comunicazione tra aziende ma anche una comunicazione in tutto il territorio cileno anche tra cittadini e cittadine poi c'era cyber stride che comprendeva la suite di programmi c'è la suite come dire il vabbè i programmi per cioè dei software esatto esatto c'è la suite per raccogliere questi software per raccogliere elaborare e distribuire i dati esatti esatto esatti poi c'era ceco che non era un stanza per ceco letteralmente ma per ciliano economy ovvero una componente di cyber scene che come veniva presentata era costituito uno sforzo ambizioso da medina uno sforzo ambizioso per modellare l'economia cilena e fornire simulazioni del comportamento economico futuro in modo appropriato a volte è stato definito futuro cioè chiamato letteralmente così il sistema cieco veniva chiamato futuro future il simulatore fungerebbe da laboratorio cioè doveva essere una sorta di laboratorio sperimentale del governo in quanto era anche diciamo un programma di simulazione vera e propria cioè nel senso attraverso questo cieco principalmente loro lo usavano per il sistema economico ma appunto l'idea era quella di appunto estenderlo e farlo diventare addirittura appunto un simulatore politico sociale sì esatto cioè loro simulavano letteralmente scusate mi è partito sto audio simulava letteralmente quali degli scenari futuri cioè se noi che so oggi produciamo tot e scaliamo su quest'altro tipo di produzione facciamo cosa succede questo sistema doveva essere in grado di predire effettivamente il futuro che poi è quello che ecco per tornare al presente una simulazione non è anche una predizione per tornare al presente questo mi ricorda anche un po' i mercati finanziari come funzionano oggi in un certo senso no cioè nel senso i mercati finanziari si basano molto sul predire tra virgolette ovvero esistono dei sistemi ovviamente molto sviluppati molto avanzati che per millisecondo letteralmente devono calcolare più velocemente magari di un altro software che sta in competizione quale sarà la mossa di mercato in quell'istante più convenevole per la società ad esempio quindi diciamo in un certo senso questo mima quello che era appunto questo questo cieco cioè questo progetto cioè questo sottoprogetto di Cybersyn e poi vi era Opsroom ovvero che creava un nuovo ambiente per il processo decisionale modellato su una sala di guerra britannica della seconda guerra mondiale letteralmente consisteva di sette sedie disposte in cerchio che poi appunto questa era la stanza cioè proprio prima chiamata Opsroom la stanza che abbiamo visto poco fa vabbè puntava proprio principalmente ad essere iconica esatto e appunto a rappresentare il futuro in tutto e per tutto evocare il futuro in tutto e per tutto tra l'altro come dicevamo prima anche cioè in questa stanza non erano ammessi dispositivi cartacei sì esatto non era ammessi peculiare cosa molto peculiare Bir nel suo progetto aveva aveva bandito assolutamente qualunque qualunque pezzo cioè qualunque cosa di carta o che poteva scrivere perché nella sua concezione tutto il passato doveva essere diciamo non cancellato ma doveva essere appunto messo da parte tutto quello che stava in quella stanza in quel momento doveva ricordare letteralmente trascrire letteralmente l'idea di futuro sì cioè doveva essere il futuro tutto quello che che avevano progettato esatto esatto sì e quindi appunto questa rete man mano si espande il progetto man mano si espande vede cresce continua a crescere il progetto di Bir man mano si fa sempre più ambizioso cioè nel senso Bir comincia a immaginare cioè prima abbiamo parlato per esempio di del progetto Cyberstride cioè abbiamo fatto in cioè riferimento al progetto del processo delle aziende che dovevano trasmettere i dati Bir appunto cioè allora il progetto iniziale di CyberSyn prevedeva che solo una volta al giorno le aziende potevano inviare questo feedback cioè non un feedback potevano inviare i loro dati a CyberSyn però appunto il progetto di Bir era che addirittura l'economia cioè del paese le aziende del paese potevano inviare i loro dati cioè minuto per minuto allora perché in pratica cioè cosa cosa si basava il progetto di elaborazione dei dati ovviamente cioè loro avevano già messo nel software i dati storici relativi all'economia in modo tale da prevenire già degli errori in modo tale da prevenire già degli errori che erano stati fatti in passato allo stesso modo appunto le aziende potevano inviare i loro dati appunto a CyberSyn che venivano messi nel calcolatore che lì appunto calcolava in ogni secondo cercando di predire quindi questa macchina si nutriva dei dati dell'economia cilena per simulare lo scenario più lo scenario migliore da perseguire e appunto l'idea era quello di farlo in ogni momento anche se inizialmente era previsto che si potesse fare appunto una volta al giorno sì esatto allora a questo punto diciamo della storia uno potrebbe pure dire vabbè ma quindi c'è tutta sta roba era fatta per spiare i cittadini perché insomma uno dice vabbè c'è addirittura il sistema di feedback dove mi piace non mi piace eccetera eccetera allora il punto è che quello che è quello che succede oggi il meccanismo di feedback ok il meccanismo di feedback la raccolta dei dati è quello che cioè succede già oggi però appunto viene fatto dalle aziende e non dai governi che ovviamente perseguono un fine economico non di giustizia sociale o di tutela della collettività quindi io non credo che ci fosse un intento del genere in un progetto simile anzi cioè io questo progetto cioè di questo progetto sento proprio riesco proprio a sentire l'energia propulsiva volta appunto alla collettività e il miglioramento come appunto come società come società tutta quindi appunto non ci vedo un fine del genere poi appunto non è che i dati sono il male anzi cioè i dati sono importantissimi e sarebbe importantissimo mettere mettere le nostre migliaia centinaia di dati che oggi sono delle aziende a disposizione della collettività come appunto che ne so i dati su come funzionano le intelligenze artificiali su come funzionano gli algoritmi già per cominciare sì sì appunto c'è ecco di fatto vado un secondo e mangio a cucano sì ok pausa pubblicitaria pausa noi non abbiamo pubblicità sul canale però ecco stavo dicendo di fatto come lo stesso Allende diciamo Allende era molto entusiasta di questo di questo piano Beer glielo spiegò passo dopo passo gli spiegò come sarebbe come si sarebbe voluto man mano nel tempo come doveva come doveva essere infatti sia Beer che appunto Allende condividevano l'idea che il progetto di Cyber Scene non era fatto per spiare i cittadini cileni o comunque controllare le persone ma al contrario speravano che potesse essere un sistema che in qualche modo consentisse ai lavoratori di gestire o comunque prendere parte una bella parte una parte considerevole alla gestione dei loro luoghi di lavoro e appunto lo scambio quotidiano di feedback di informazioni e quindi creare una vera e propria cooperazione e rapporto di fiducia tra il governo le istituzioni governative in questo caso dato che era tutto nazionalizzato centralizzato e appunto i cittadini quindi una grandissima opera collettiva che letteralmente il comunismo potremmo dire però un'opera appunto collettiva e non di spia ma cioè non volto al controllo e allo spionaggio e robe del genere ma esclusivamente solo ed esclusivamente alla cooperazione ciao fresco buonasera benvenuto siamo nel bel mezzo della storia su Cybersyn e stavamo appunto parlando adesso diciamo stavamo scendendo nel particolare di di come era a che fine era utilizzato il progetto ecco Cecilia è ancora in bagno se vedete sono una sedia vuota perché è arrivato adesso è perché Cecilia sta in bagno non sono da solo ecco l'hai tornata no perché mi ha fermata mia madre per dirmi a proposito di dati a proposito di dati ecco cosa buonasera fresco sì a proposito di dati sì no tipo ha detto oggi ho comprato lo shampoo che è arrivato stamattina quello antigiallo eccetera bla 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 comunque cioè ha detto guarda cosa mi è uscito su facebook lei è uscita la pubblicità di quello stesso identico shampoo ok e lei ha detto di non averlo cercato né niente non ha nemmeno ci ascoltano nessun tipo di account cioè quindi e lei oddio ma come è successo perché i cellulari ci ascoltano no sì sì a rete telex di cui parlavamo prima allora stavo dicendo che sei scappata via no cioè prima ti ho detto cioè a questo punto della storia uno potrebbe pensare vabbè ma questa era fatta per spiato vabbè hai fatto la tua parentesi eccetera eccetera sì io ho detto che appunto poi ho spiegato cioè che era una speranza condivisa tra Birre e gli end perché poi Birre spiega ovviamente tutto il progetto dagli end eccetera eccetera era quella non tanto di spiare i cittadini quanto più di quanto più quella di inserire all'interno del processo di cooperazione e quindi anche gestionale cioè una vera e propria partecipazione così come era stato promesso dal governo agli end all'inizio della nazionalizzazione quando c'era stata nel 1971 cioè quando c'era stata questa fortissima scossa all'interno del paese e quindi effettivamente arrivare a quell'obiettivo che si erano preposti cioè una cooperazione autentica al 100% totale volta al miglioramento volta al miglioramento tra il popolo cioè il popolo dei cittadini e il governo vabbè le persone e l'istituzione sì esatto e quindi appunto cioè infatti entrambi speravano che in qualche modo cioè tutto fosse recepito in questo modo cioè ed era anche diciamo l'intenzione del progetto tutto intero appunto poi ecco Bir passò due anni interi in Cile quando tornava nel Regno Unito tornava comunque per lavorare infatti c'erano degli ingegneri anche in Regno Unito che stavano lavorando al progetto di CyberSyn lavoravano a ritmi lavoravano a ritmi frenetici per mettere su questa macchina di proporzioni gigantesche un vero e proprio insomma una vera e proprio per costruire questa utopia assurda tant'è che però del progetto CyberSyn effettivamente si conosce cioè viene diciamo alla luce del sole agli occhi del mondo solo nel 1972 circa quando appunto in un ritorno di Bir in Inghilta cioè nel Regno Unito appunto rilascia questa intervista all'Observer dove spiega tutto il progetto spiega tutto il progetto che stava mettendo su per il governo cileno e appunto per la prima volta si vede sui giornali cioè diciamo al pubblico vero e proprio questo progetto che stava per nascere che il titolo del giornale era il Cile che fa la rivoluzione cibernetica tipo una cosa di questo tipo che poi appunto dopo un anno sarebbe stato distrutto si va bene questo capo appunto nel 1972 e appunto ecco per la prima volta diciamo viene alla luce del sole il progetto tutti quanti cominciano ad osservare cosa sta accadendo in Cile cosa sta succedendo già la nazionalizzazione non era stata vista di buon occhio da dal ceto medio cileno proprio e dalla classe borghese mettici anche l'interesse c'era come abbiamo detto all'inizio c'era una situazione storica particolare il Cile con la venuta del governo Allende come ho detto prima nel 1970 proveniva da vent'anni da decenni di governi destra e fascisti la tensione era molto governi che come abbiamo detto avevano principalmente cioè avevano politica principalmente di liberalizzazione economica a volte era liberalizzazione economica il paese viveva un momento effettivamente di sconquasso cioè sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale l'ha venuta fuori di questo progetto che cioè la nazionalizzazione come abbiamo detto non solo stava bene ai cileni ad alcune classi cilene ma anche al governo degli Stati Uniti sì ma allora però vorrei comunque sottolineare cioè che questo progetto era un progetto su cui il governo appunto aveva investito quasi tutte le sue risorse cioè era una roba importante fondamentale per l'avviamento di questo governo anche nel tempo quindi c'è comunque è stato questo che ha poi causato sì no sì sì a parte che questo ha causato poi il colpo di Stato sì ma anche il malcontento generale cioè una bella fetta della media borghesia cilena si era vista diciamo detratta dei suoi beni delle grandi aziende delle grandi industrie poi appunto in particolare il Cile era ricco di rame no e le industrie cilene del rame comunque negli anni prima di Allende erano state nazionalizzate cioè non erano state nazionalizzate erano state liberalizzate erano state liberalizzate e quindi comunque i mercati erano molto aperti speculavano un sacco la media borghesia cilena speculava un sacco soprattutto sul rame infatti era stato un periodo di arricchimento per alcune classi sociali cilene e comunque appunto poi con la venuta di Allende tutto questo scompare questo crea malcontento la nazionalizzazione come abbiamo detto non scontenta solo i cileni ma ci stanno pure gli americani pronti lì cioè che sono stati gli americani non solo rotti il cazzo allora se erano questioni interne se erano semplicemente questioni interne al governo cileno all'economia cilena in qualche modo si sarebbero pure potute gestire ma è stato l'intervento degli Stati Uniti che poi ha causato gli americani appunto stavo dicendo non solo stavano scazzati che questo stava nazionalizzando tutto ma con me questo vuole nazionalizzare ma noi ci abbiamo qua dobbiamo liberalizzare noi ci abbiamo no ma noi ci abbiamo il progetto panamericano di estenderci in tutta l'America di fare la grande America di stare qui e lì a buttare colpetti di Stato a destra e manca per poi insediarci eccetera non solo stanno nazionalizzare che non ci vogliono fare andare a speculare nel loro paese a prendere le loro risorse a 4 lire a mangiare addosso ai poveracci vogliono favore i cybersin cioè perché poi appunto la notizia uscì sui giornali comparve nel 72 sull'observer e quindi cazzo immagino gli americani dicono proprio questo oddio poi non lo so se gli americani non sapevano cioè oddio qua ho dei miei dubbi cioè nel senso non so se gli americani non sapevano già dei cybersin cioè quando hanno chiamato Beer che comunque era britannico c'aveva comunque questo team penso che comunque si sapesse che stavano lavorando a questo progetto magari non era una cosa pubblica però comunque si sapeva sì sì cioè comunque sapevano loro penso in qualche modo no però vabbè poi comunque agli occhi del mondo esce sta notizia la rivoluzione cibernetica in Cile questi che stanno a combinar cybersin oh mio dio vogliono scandalo questa rete telex questa rete espansa per tutto il paese da nord a sud dai deserti alle montagne che passa in tempo reale dei dati addirittura i feedback della popolazione controlla insomma tutto il processo di gestione forse è veramente troppo complessa è veramente una roba complessa di fatto per i tempi di fatto era una infatti era una roba complessa però man mano in Cile parentesi in Cile comunque si stava diciamo facendo cominciando a fare un po' cioè no di propaganda no cioè sai un po' di pubblicità questa cosa di cybersin cioè nel senso comunque dovevi preparare la popolazione a questa roba già la nazionalizzazione che era è stata una roba che aveva generato molto malcontento poi comunque tu hai scelto questo progetto utopico gigantesco che vuoi applicare si stava cominciando a fare un po' di pubblicità no non vorrei chiamarla propaganda un po' di pubblicità infatti c'era questa vignetta che ti ho mandato su telegram magari la trasmettiamo quale? questa se non sbaglio eccola ecco qua c'era questa vignetta che cominciavano a comparire anche nelle fabbriche insomma tra le varie pubblicità ecco che comparino nelle fabbriche un po' nelle strade insomma il nostro amico è il computador il nostro amico è il computador appunto come dice la descrizione appunto il computer non il lavoratore appare al centro del progetto di Cyberscene questa immagine è apparsa su icon paper in modo origine cioè che era appunto vabbè usata vabbè questione di diritti e vabbè comunque era questa l'immagine era questa l'immagine cioè davvero c'era questa immagine diciamo di di persone alla fine esseri umani che suiscono una macchina diciamo per cominciare ad abituare la popolazione cioè per instillare nella popolazione l'idea di collaborare con una macchina è che questa macchina avrebbe fatto non tutto cioè chiaramente avrebbe fatto avrebbe gestito e infatti avrebbe avrebbe collaborato esatto centrale in questa pubblicità è di fatto il fatto che che cioè questa pubblicità diciamo questa vignetta mette a fuoco una roba centralissima di cyber scene cioè il core il core di cyber scene cioè ovvero non è il lavoratore al centro più al centro del processo produttivo bensì il computer al centro della creazione di valore esatto non è più il lavoro del lavoratore esatto non saremo più non vogliamo estrarre più valore dal dal lavoratore bensì vogliamo estrarre valore dalle macchine cioè con i computer voi cioè nel senso i lavoratori saranno lì solo per contribuire al processo gestionale che è diverso dal processo produttivo voi sarete i gestori non sarete i cioè come dire i produttori no cioè voi gestirete questa macchina sarete il prodotto esatto la materia prima esatto allora la materia prima sì perché comunque c'è il computer elabora i dati e tratti dall'economia cioè i dati dell'economia cilena però comunque lo fa col fine di estrarre valore per migliorarsi non per appunto capitalizzare quel valore sì sì e questa vignetta traduce esattamente tutto tutto il principio di di poi vabbè vedi le frecce c'è l'oro che danno alla macchina e la macchina che gli dà indietro sì poi magari esatto esattamente in questo sistema di in questo appunto sistema di scambio sistema di scambio di accresci di di cooperazione continua che accresce sia la macchina perché la macchina apprende poi appunto perché non dimentichiamo prima abbiamo parlato abbiamo detto abbiamo citato il fatto che la macchina potesse ipotizzare degli scenari e nella visione di Bir la macchina doveva crescere come l'intelligenza artificiale cresce oggi cioè sostanzialmente sì vabbè era un simulatore un calcolatore esatto tu dovevi alimentare con i dati questa questa macchina fino a a formulare delle ipotesi quasi perfette sì capi e quindi appunto questo poi appunto ci sono pure ma magari altre cose che spiegano anche a livello un po' più tecnico va il processo di cyber scene proprio da anche dall'interno sempre altre cose che ho mandato tipo questa sì se non sbaglio sì un bel po' di foto abbiamo aperto ok vabbè abbiamo mostrato un po' di roba fino a mo' ok sì ok allora allora work is the art of all viable system scusatemi la pronuncia vabbè il lavoratore è al centro è il cuore del del sistema sì vabbè perché appunto worker crew workshop department the fern one sector vabbè tutti i settori da dal lavoratore per arrivare alla nazione all'intera nazione all'intera nazione quindi cioè dal singolo alla complessità all'unità al tutto appunto questo sempre diciamo per tradurre in uno schema poi appunto l'intera nazione che era composta da tutte queste parti il governo l'economia l'industria tutte le imprese dipartimenti le linee principali il primo settore fino ad arrivare alla persona esatto il welfare eccetera eccetera fino a poi con tutte ognuna di loro ha delle varie funzioni la nazione che governa eccetera gestisce la comunità insomma era un piano ultra 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 complesso no sì cioè effettivamente allora vabbè qui si stava proprio cioè cercando di strutturare secondo me stava cercando di strutturare proporre ideale ideare una società del futuro a cui voglio dire oggi non ci siamo ancora arrivati oggi non ci siamo arrivati perché cioè per me è ancora un modello a cui poter tendere siamo standard ok vai vai per me ancora un modello a cui poter tendere ovviamente non non al cento per cento apri la finestra però insomma c'è la questione del raccogliere è utilizzare i dati sia economici sociali politici per migliorare la società stessa e non per capitalizzare cioè mi sembra un'idea appunto che non è stata che non sia ancora realizzata e che attuabile dal momento in cui voglio dire però mi hai fatto in mente una cosa dal momento in cui abbiamo anche le strutture fisiche per creare questa cosa però mi hai fatto in mente una cosa può apparire un esempio sciocco perché è stata una roba fallimentare cioè di fatto però per esempio il progetto dell'app immuni del contact tracing no cioè di fatto si è fatta in giusto modo si è utilizzata ovviamente con trasparenza dove i tuoi dati non sono fatti poi per essere venduti a parti terze bla 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 era effettivamente un processo di cura collettiva ma lì abbiamo visto lì abbiamo che poi cioè le app e il tracciamento in generale sono stati fondamentali negli altri paesi per per avere cioè basta pensare in Cina cioè è stato fondamentale il tracciamento per evitare la diffusione del contagio quindi appunto sono dati utilizzati per gestire la situazione covid però secondo me la questione dell'app immuni ha aperto veramente una un spirale cioè ha svelato davvero una forte inconsapevolezza da parte almeno delle persone che non hanno voluto scaricare l'app o comunque cioè del discorso che si è fatto rispetto all'oddio prendono i nostri dati lo stato vuole spiarci vuole controllarci vuole fare questo che non che non sono state solo robe da complottisti eh sì sì certo però c'è quando in realtà quello che cioè quello che si sarebbe fatto con immuni è soltanto una minima parte una parte infinitesimale che viene fatto ogni giorno con i nostri dati dalle aziende private quindi voglio dire cioè preferisco dare i miei dati io preferisco dare i miei dati sicuramente per per evitare che per per gestire la situazione dei contagi del covid piuttosto che per far vendere lo shampoo della l'oreal cioè sì certo a proposito del tuo shampoo di prima comunque ecco cioè per tornare alla storia di cui stavamo raccontando questa sera prima abbiamo accennato al malcontento che si stava comunque diciamo diffondendo nel paese no? stavamo parlando appunto del fatto che la media borghesia non era molto d'accordo con la nazionalizzazione delle industrie di tutta questa però appunto e quindi ecco diciamo il progetto cyber scene sì bellissima idea però all'interno del cile di al tempo vi era una fortissima tensione sia interna che esterna questa fortissima tensione però è che ha affogato di fatto cyber scene però ecco che successe questo progetto come riportato in alcune interviste aveva avuto successo cioè nel senso c'erano state le prime fabbriche che avevano cominciato a come dire ad attuare il sistema cioè di cyber scene cioè a trasmettere i dati eccetera eccetera e addirittura a desiderare appunto alcune fabbriche alcuni lavoratori delle vere e proprie postazioni come le avevano a santiago cioè dove che era appunto a santiago del cile dove appunto avevano la sede centrale del di seversi aveva avuto un certo successo infatti che successe quando la crisi cominciò a scoppiare nel cile del tempo la crisi interna al cile c'è tra la classe media e quant'altro cyber scene effettivamente scusate il lag cyber scene effettivamente divenne una come dire fondamentale per il governo agli end vitale cioè il prodotto del progetto divenne la chiave per o perire per sé nel senso o croce o delizia o realizzavi l'utopia o venivi devastato cioè si realizzò esattamente questa si realizzarono esattamente queste ipotesi o veniva fuori l'utopia cilena con questo progetto assurdo che era cyber scene o appunto veniva completamente devastato il cile di allora verso il finire del 1972 comincia a soffrire di una grande grande crisi economica il cile comincia a indebitarsi fortissimamente comincia il progetto cyber scene era costato era costato però in particolare era costata molto la nazionalizzazione la nazionalizzazione cominciava a sentire i primi effetti economici della nazionalizzazione cominciavano a sentirsi soprattutto sulla classe media che ne aveva risentito di questa sorta di esproprio no da parte del governo vabbè chiaramente ci voleva un tempo per assestarsi e per andare in porto il progetto esatto è chiaramente lì che affiora questa crisi economica gigantesca in tutto il cile i piccoli i piccoli e grandi imprenditori cominciano ad unirsi e col sostegno della cia cominciano gli scioperi il governo Allende comincia a diciamo a traballare tantissimo risentirne un sacco di questa di questi scioperi che erano fatti dai piccoli e grandi imprenditori insomma brutto colpo i quali erano comunque sostenuti anche dal governo americano infatti cominciano a registrarsi tantissime tensioni all'interno del paese tensioni importanti con scioperi molto violenti insomma robe non di poco conto fino a quando il volere della della media borghesia era appunto quello di riportare la destra al governo però ecco succede che cioè che poi tra l'altro vorrei dire in questo periodo di crisi anche qui è stato utile Cybersyn perché è stato utilizzato è stato utilizzato per capire appunto dato che c'era scarsità di risorse è stato utilizzato per capire in che punti c'era scarsità e appunto come comportarsi come gestire e spostare le risorse per far fronte alla crisi quindi un sistema che non funzionava solamente per la crescita ma funzionava anche per affrontare per affrontare le crisi momenti le crisi cioè era un sistema che lavorava per prevenire la crisi ma era anche in grado di gestirla una volta in corso di fatto in questo momento molto tumultuoso comunque Cybersyn ha lavorato ha lavorato ancora in quel piccolo che era in quel momento per far fronte a quella che era appunto una crisi economica evidente in ogni caso cioè la nazionalizzazione si era portata con sé tutte le contraddizioni che ci potessero essere effettivamente però ecco la crisi doveva essere ancora affrontata la destra cioè la piccola e media borghesia la grande borghesia un po' tutti i grandi imprenditori gli industriali tutta la gente che si era risentita della nazionalizzazione si unisce e rivole la destra al governo la destra che aveva governato prima l'Italiente per vent'anni come abbiamo detto prima anzi in realtà per un bel po' di tè non più di vent'anni in Cile prima di Allende che succede però succede appunto che arriviamo al fatidico giorno l'11 settembre del 1973 quando con un attentato appunto al palazzo del governo ciao Pelos ciao Pelos ciao Pelos buonasera al palazzo del governo guidato dai generali cileni con a capo il famoso Augusto Pinochet e poi anche guidato anche dalla CIA dai servizi segreti americani eccetera eccetera fanno questo attentato rimuovono di forza il governo Allende Allende rilascia un discorso storico no Pelos rilascia un discorso che rimarrà poi negli annali nella storia che forgerà poi le generazioni future che poi si libereranno poi da Pinochet negli anni 90 e insomma si suicidia Allende ci sono delle ci sono delle ipotesi ovvero che si dice c'è chi dice che sia morto ammazzato c'è chi dice che si sia ammazzato prima che arrivassero i soldati nel palazzo Allende muore muore così cade il governo cileno viene fatto il colpo di stato arriva Augusto Pinochet arriva il governo militare la dittatura militare e appunto con la fine del governo Allende finisce anche purtroppo il progetto CyberSyn si il progetto CyberSyn che viene scoperto poi ufficialmente effettivamente dal governo Allende che quando si insedia a Santiago del Cile scopre scopre questa scopre dal governo Pinochet che scopre questa postazione scopre queste postazioni tutto questo sistema che però poi dal governo Pinochet non è mai stato utilizzato anzi che venne completamente smantellato e messo insomma nel cassetto dei ricordi cioè messo lì come una roba assoluta lo hanno distrutto esatto venne distrutto e questo oggetto appunto erano dei fascisti rimase nel cassetto anche poco intelligenti esatto e avviò poi quella che fu come dire la stagione delle liberalizzazioni delle ultra liberalizzazioni del Cile che appunto si apriva al governo americano che fu diciamo uno dei primi esperimenti possiamo dire neoliberali degli anni settanta perché appunto poi questi paesi così fungevano da veri e propri laboratori politici paesi come il Cile e altri piccoli paesi un po' più piccoli come questi quella della cosiddetta terza via si Angelus infatti rispetto al colpo di stato in Cile proprio recentemente sono stati dei segretati dei documenti che provano che provano il colpo di stato il coinvolgimento della CIA nel colpo di stato quindi c'è comunque roba che se fino a una decina d'anni fa era considerata complottismo una ventina di anni fa era considerata complottismo oggi è accurata perché ci sono dei documenti a riguardo che provano questa cosa magari dopo cerchiamo l'inferenza di mandare qualcosa su Telegram l'inferenza della CIA diciamo che possiamo considerarla un fatto cioè un fatto assodato quasi c'è l'inferenza da lì come stavo dicendo si aprì poi tutta la stagione di liberalizzazioni si aprì questo vero e proprio laboratorio politico in Cile con il governo di Pinochet laboratorio in senso negativo non come lo intendeva Hayand sicuramente laboratorio politico per esperimenti neoliberali effettivamente fu lì che i così famosi Chicago Boys poi quelli della scuola di Chicago applicarono tutte le loro le politiche neoliberali che hanno visto provarono e sperimentarono le politiche neoliberali che poi sono state esportate adattate in altri paesi che sono state sperimentate sviluppate lì quindi cioè appunto non è non è stato un laboratorio socialista come si si sperava ma è diventato un laboratorio neoliberale nel senso che la caratteristica della sperimentazione è rimasta però l'hanno utilizzata in senso negativo per distruggere la società praticamente che poi tra l'altro c'è l'esperimento neoliberale è stato anche un esperimento fallimentare in Cile che ha ridotto ancora di più sull'astrico la popolazione che poi voglio dire appunto nel momento in cui è stato fatto il colpo di Stato non è che già se la passavano bene comunque stavano comunque vivendo un periodo di crisi causato dalla nazionalizzazione di Allende comunque in ogni caso ma appunto con il colpo di Stato la situazione è andata sempre di più a peggiorare perché poi si è invertita di nuovo la marcia e si è da del via le liberalizzazioni sprenate alle liberalizzazioni sprenate laboratorio tipo macelleria ecco infatti ok io sono fredde stronzonte ma lei sono dolce ok bene però sono solo pure non binarie l'ho scoperto grazie a TikTok ok sì è vero sì magari ci faremo un approfondimento su questo questa cosa questa cosa bello appunto poi vabbè il governo Pinochet giusto per aggiungere dovremmo poi aprire ecco fare una live a parte su questo si dovrebbe fare una live a parte su questa cosa sul governo Pinochet dal colpo di Stato in poi quello che è stato appunto cioè sui circa 30-40 mila desaparecidos che sono scomparsi ovvero gli oppositori politici del governo di Pinochet di tutte le torture che sono state applicate sopra sui sugli oppositori politici insomma di una storia assurda di macelleria vera e propria ciao Sam buonasera ciao buonasera di macelleria vera e propria e la quale meriterebbe merita un approfondimento a parte secondo me perché è interessante vabbè chiaramente noi oggi volevamo soffermarci principalmente su quella che è stata su quello che è stato il progetto Cyber Scene chiaramente bisogna inserirlo in un contesto che è stato quello del sogno socialista della crisi e del colpo di Stato certo sì dal punto di vista storico sì beh se l'utopia si concluse con con la triste delle parentesi sventrata proprio la domanda delle domande dopo tutta questa storia è ancora possibile una Cyber Scene oggi no cioè sì sì perché no possono essere utilizzati dati per fini di miglioramento della società assolutamente cioè il problema è che oggi non è questo non è lo scopo principale dei dati cioè il punto è che Cyber Scene si è realizzata ma si è realizzata nell'industria privata e nelle piattaforme digitali sì ma sto leggendo i messaggi di bello no ma comunque non ho capito perché lagga però non lagghiamo cioè non lo so non lo so non lo so no è verbo non chiedermelo cioè comunque ma chi è Joker come chi è Joker ah il Joker ah sì sì ok super lag eh sì effettivamente sì lag scusateci proprio ora sta laggando ecco qua infatti molte delle idee sono germogliate sono state purtroppo usate per scopi diversi però dai io ci voglio credere sì dai cioè sì appunto è meglio allora il fatto è che cioè appunto come dicevamo anche prima abbiamo oggi abbiamo a disposizione le strutture potenziate all'ennesima potenza su quelli cioè su quelli che erano i presupposti di CyberSyn cioè la raccolta di informazioni i feedback e l'utilizzo delle informazioni e della conoscenza per migliorare sempre di più il sistema e appunto l'interazione e il sistema appunto un'azione stesso nel caso di CyberSyn sì e e niente cioè quindi sì esistono queste strutture ma il punto è che oggi vengono utilizzate grazie vabbè niente ok vabbè vabbè sono state cioè vengono utilizzate per il miglioramento della struttura cioè del sistema multinazionale non del sistema società io pensavo non del sistema umanità sì io pensavo che cioè nel senso allora fai figura tranquillamente no 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 anzi è che l'abbiamo fatto nello stesso momento quindi vabbè non fa niente anzi grazie no ora ora sono i bandi dolmen comunque sì sì da mo sì è lei che io pensavo appunto cioè nel senso allora CyberSyn si affacciava il progetto CyberSyn si affacciava è un momento storico in cui allora sì allora cioè CyberSyn pensava già alla complessità no cioè si approcciava già alla complessità di quello che doveva e poteva essere e poi è stato in qualche modo un sistema di sorveglianza ma di controllo e pianificazione e gestione quindi già si modellava così come così come sono modellati oggi i sistemi appunto di gestione pianificazione controllo dati no è controllo di valore sì di valore che oggi corrisponde ai dati di dati che generano valore però appunto c'è il contesto chiaramente adesso banalmente è molto più complesso nel senso è vero CyberSyn affrontava già da solo il progetto la complessità però ecco immaginarlo applicato immaginare applicato un sistema simile ad un sistema complesso come quello d'attuale vede tutti i limiti che poi concorrono no cioè chiaramente oggi ecco se oggi dovesse esista CyberSyn non può essere come CyberSyn degli anni 70 chiaramente ma dovrebbe essere una roba assurda no oggi si sarebbe voluta totalmente qualcosa di ancora più se poi ci rifletti bene la direzione di oggi propende se proprio vogliamo liberarci dalle piattaforme digitali in questo senso propende verso la decentralizzazione mannaggia propende sì aspetta aspetta vai cioè se proprio vogliamo liberarci dalle piattaforme digitali propende verso la decentralizzazione oggi l'automazione l'atto liberatorio oggi in realtà è decentralizzare mentre appunto CyberSyn voleva centralizzare capito sì però CyberSyn voleva centralizzare l'analisi ok ma appunto a parte che era l'inizio proprio del progetto però comunque c'è CyberSyn ok che voleva centralizzare l'analisi però comunque voleva creare una rete di interazione costante non solo con l'impresa centrale ma anche con cioè con il con la rete di controllo centrale ma anche tra le imprese stesse tra l'economia una cooperazione anche perché appunto c'è la gestione ok che era centralizzata ma era sempre in base alle esigenze specifiche di tutti i contesti di riferimento delle imprese del sistema ok poi ci sono solo mi sono accorto che cambia nome Samu in realtà c'era già il nome l'abbiamo cambiato già dalla settimana scorsa se non sbaglio avevi fatto pure la sub la settimana scorsa quindi già c'era il nome sì 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 quindi non l'hai visto tu però l'abbiamo cambiato già da più di una settimana è stato fatto appunto da massimo dieci giorni comunque vabbè abbiamo abbiamo cambiato il nome per questo 2021 perché ci siamo evoluti non più Miss Borg ma in the Borgs non più centralizzati c'è stata un'evoluzione non più centralizzati diciamo decentralizzati ora possiamo essere tanti Borgs sì sì potrebbe pure comparire un terzo magari un giorno ma anche loro sono Borgs anche voi poi alla fine lo siete cioè effettivamente sì perché voglio dire senza banalmente non esisterebbe questo canale eh eh non so muoviamo 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 vabbè comunque smanceria a parte penso che abbiamo che palle non ho capito perché stasera speriamo che non lo faccia venerdì quando abbiamo l'ospite richiamo in questi giorni smenso affesa per Andrea che sarà sempre nel mio cuore ma mi sei il numero uno assolutamente sì 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 grazie Samu anche tu sei nel mio cuore sei il numero uno e penso che abbiamo raccontato eh sì Samu sette Samu sette quindi cosa? no non uno sette comunque penso che abbiamo raccontato un po' tutta la storia abbiamo raccontato appunto c'è allora allora nel caso vorresti approfondirla proprio nello specifico se vi è piaciuto c'è questo libro di Eden Medina scusatemi un secondo subito che lo recupero che è stato per l'altro mandato e dove lo invi scusa sul potere ah ma prendi il link aspetta prendo il link lo metto ovvero Cybernetic Revolutionaries Tecnology and Politics in Allende in Allende Cile di Eden Medina che è una ricercatrice per il MIT di Boston ah ma questo è per comprarlo questo è per comprarlo però io se volete ve lo mando in modo legale me lo pagate non è bene cioè vabbè comunque vabbè questo è il libro poi nel caso nel caso lo vorreste poi il pdf ve lo posso mandare in modo molto legale e qui ci sono tutti gli approfondimenti proprio di tutta la storia è un libro molto molto lungo cioè no è abbastanza 300 forse è uno dei pochi pochissimi approfondimenti uno dei pochi approfondimenti e che potete appunto trovare riguardo a questa storia ma sì sì lo mando sul gruppo assolutamente opzot ci capiamo noi sì 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 a voglia twitch non capisci ma poi è originale è originale non so sì 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 è è nata è gnada ok spero che diciamo questa roba di portare diciamo delle storie non non sarà sempre magari però ecco spero in qualche modo possa piacere sia piaciuta stasera abbiamo scelto questa storia qui ci sarebbero tante storie da poter raccontare e quindi magari ecco riproporla anche nelle settimane che verranno sempre di lunedì certo poi se ci sono delle domande se ci sono anche dei suggerimenti sono anche dei suggerimenti riflessioni appunto cioè rispetto cioè a tutta la vicenda sì però possiamo parlarne anche insieme sì ora io per esempio sto facendo quello che faceva Sardosi cioè sto cercando un feedback nei voi cittadini di questo canale rispetto a questo questa cosa oltre di come sei un po' molto triste no Sam sono stanca perché domani devo fare un esame quindi sto studiando e finalmente domani mi tolgo il pensiero almeno di questo a Safa ma voi mandate anche le foto dei computatori amico sì sì ok mandiamo tutto nel gruppo no dopo mandiamo tutto il materiale se vi interessa appunto pure il libro mandiamo tutto tutto il materiale sul gruppo per chi non c'è non so se c'è qualcuno in chat che non sta sul gruppo scriveteci in privato mi mandiamo il link di telegram sì Sam non c'è perché non si vuole fare telegram va bene poi magari proveremo un po' riattivare il discord magari sì abbiamo pensato anche di riattivare il discord che è un po' disattivo da un bel po' di tempo però vabbè cercheremo di rivitalizzarlo e quindi nulla c'è questo così anche da ampliare espandere la rete tanto così non so che dire che dire hai guardato lì calendario ok guardiamo il calendario perché appunto avete mica notizie cosa pensano adesso i cileni di questa storia no non ti saprei dire non ne ho idea cioè non so nemmeno se questa storia magari ritorni nel allora alla loro mente allora no allora del progetto Cybersin in particolare no però mi ricordo di un di un seminario che fra l'altro organizziamo noi no proprio cioè insieme a Link Frisciano vabbè sì sul Cile sul Cile però sulle sulle questioni sociali sì certo però appunto c'era la prof che aveva appunto aveva studiato a Santiago del Cile insomma aveva avuto molte esperienze lì aveva tantissime amicizie lì e appunto in questo seminario in questo incontro sulle proteste che c'erano state in Cile nel 2019 fu riportato anche fu fatto anche un escursus storico mi ricordo sulla storia del Cile sulla storia del Cile su quello che fu Allende di quello che fu il colpo di Stato di come è stato vissuto il colpo di Stato di come è stata vissuta la storia dei Saparesidos eccetera eccetera e appunto allora di Cyber Scene non si parlò però ricordo che effettivamente il Allende ecco le politiche di Allende e Allende il socialismo di Allende è rimasto diciamo nell'anima cilena anche negli anni sia durante la dittatura ma anche dopo la dittatura cioè quello che fu è stato il governo Allende e ciò che poi ha visto nascere un po' tutti i movimenti di piazza sia anche a partire da quello del referendum sul no e sul sì contro la dittatura poi tutti i movimenti di piazza insomma uno spirito che poi si è alimentato nel tempo ed effettivamente prende le radici da quello che furono fu quella come dire quella fiamma negli anni 70 del governo socialista quella fiamma del governo socialista no volevo dire però rispetto a Cyber Scene non lo so nello specifico rispetto a Cyber Scene però no sarebbe interessante sapere questa cosa però ecco diciamo quello che cercavo di dire era cosa ne pensavano pensano in generale di quello che è stata la storia del governo non agli anni e quindi possiamo presumere da questo che il progetto Cyber Scene probabilmente forse l'utopia di Cyber Scene in qualche modo era effettivamente realizzabile ciao Marco Lindo buonasera ciao Marco Lindo buonasera comunque in realtà stavo pensando di caricare questa live su YouTube perché forse è una delle poche robe in italiano che si potrebbero trovare su Cyber Scene magari possiamo ricaricarla pure su YouTube si può fare tranquillamente chiamo a noi facciamo dei chiacchiere Andrea a me piace parlare vicini ok perfetto Samo quando vuoi ci vediamo ci prendiamo un caffè e come l'altra volta Samo ci possiamo pure muovere qui da noi quindi sì sì assolutamente quando vuoi ci organizziamo queste settimane quando vuoi facci sapere tanto c'è il nostro numero venerdì comunque ci sarà ospite Giulia Sbappi lo rivediamo per per chi non non avesse seguito in questi giorni per parlare di sex working venerdì alle ore 21 in questi giorni pubblichiamo anche più informazioni sui social alla alla